ben ritrovati di nuovo su review.io oggi vado a recensire per voi questo tagliapizza che ho acquistato su amazon vi lascio il link in descrizione perché questo prodotto nello specifico reputo essere davvero un prodotto valido questo perché ne ho acquistati altri di prezzo leggermente inferiori devo dire che si sono rivelati una vera delusione soprattutto sul fatto della lama che non era per niente affilata ve lo vado a mostrare subito allora vi dico che in acciaio inox ovviamente la parte sopra il manico è gommato quindi davvero una presa ottimale quando dovete poi andare a tagliare la pizza avete le mani sporche infarinate o unte parte in plastica solida quindi anche qui una bella presa foro per andarlo a prendere eventualmente sul muro e questa cosa che non tutti i tagliapizza hanno è la parte di protezione della lama che si può estrarre e io reputo essere davvero comodissima così evitate di tagliarvi magari accidentalmente la mano la lama si può estrarla adesso non vado a estrarvela ma vi mostro appunto che svita nel senso antiorario questa parte qua di plastica si apre e la lama si può poi mettere il lavastoviglio lavare comunque sotto l'acqua calda con un po di sapone la lama si può inoltre affilare se avete un affilatore senza problemi e mi dispiace che adesso non ho qui una pizza da tagliare ma devo dire che è davvero fenomenale e quindi volevo consigliarvela le misure sono 9 x 20 centimetri un prodotto che reputo essere davvero utilissimo e che ve lo consiglio vi lascio magari anche gli altri prodotti che ho recensito riguardanti sempre il mondo della panificazione della pizza tra cui alcune pale per il forno al bilancino di precisione per il lievito e anche il misuratore di temperatura del forno comunque usciranno adesso diverse recensioni anche riguardanti appunto la pizza prodotti utili e vi lascerò comunque le recensioni prossimamente quindi iscrivetevi al canale se avete qualsiasi domanda non esitate a pormela e ci rivediamo la prossima review